La tua verba eclettica, di quali ingredienti si nutre? Nel senso, ho visto monologhi, comici, teatro di prosa, ti ho trovato in maniera anche drammatica nella nuova squadra, un film con banzina, con corde estremamente brillante. Ma sei preparatissimo, ma vieni sempre con me, stai con me, dai ti prego. Universale e interpretativa? Io penso che sia più che altro curiosità, perché sono una persona molto curiosa, quindi mi piace mettermi in discussione, anzi le cose più sono difficili e più mi interessano, mi piace, è il carattere. Le cose difficili, i personaggi tuoi come nascono e quello a cui sei più legato, me ne ricordo uno, la cameriera ucraina, carina, no? Sì, tutto prende spunto sempre dalla realtà, sembra un fatto detto e stradetto, ma è così. Per esempio l'Ucraina, l'ho detto anche altre volte, è l'imitazione, tra virgolette, della mia insegnante di ucraino, di russo, perché sono suddita all'orientale, che era della Bielorussia, e lei aveva sposato un putiolano, quindi parlava questo russo misto a putiolano, e mi venne l'idea di fare questo personaggio, che poi è diventato cameriera, con Gianni e Biagio, ci abbiamo pensato insieme. Però sì, sono molto affezionata a Carina. Un'altra opera che mi piace di te, sei riuscito a coniugare, sessualità e comicità, caburlesca, un vero trionfo. Sì, è una cosa la quale tengo molto, perché ho sempre pensato che il fatto di dover associare la comicità alla asessualità, oppure addirittura al fatto di essere sempre brutti, sempre ridotti, devo riuscirci, e ci sono riuscita con caburlesca, anzi, la faccio la marchetta, la posso fare, eh no, l'8 settembre stiamo con caburlesca al maschio angioino per la rassegna ridere, e io credo che l'ironia sia qualcosa di molto erotico. A proposito, hai un'autoironia che rende quasi disarmante chi ti guarda, ecco perché secondo me piace molto sia il pubblico maschile che quello femminile. E ai bimbi, sembra una cosa anche perché non uso molte parolacce, quando mi viene, mi viene, però sì, ma non è una cosa studiata, io sono proprio così nella vita, come mi vedi sul palco, così sono nella vita, chi mi conosce lo sa, quindi per me è tutto molto naturale e semplice. Vi spieghiare questo fenomeno delle cabarettiste donne in esiguo numero rispetto ai maschi, bisognerebbe un pochino, come posso dire, far crescere questa tendenza? Ma non so se bisognerebbe farla crescere in realtà, perché quando ho iniziato a fare cabaret, che venivo dal teatro, quello lì impegnato, quello che io chiamo Camana in front, mi sono catapultata in questa esperienza del cabaret, anche io la pensavo come te, poi invece mi sono resa conto che forse il fatto che ce ne siano poche è più un privilegio, che è un qualcosa di negativo, però lasciamo qua se noi fanno male. In ultimo, Made in Sud è un fenomeno che tu l'aspettavi? Guarda, non me l'aspettavo però me l'auguravo per la mia produzione, perché è da anni che lavora su questo progetto e anche perché, voglio dire, è stato fatto a Milano, perché non farlo a Napoli? Perché non fare in modo che gli attori, i cabarettisti, i comici napoletani possano evitare di prendere un treno e un aereo per fare le stesse cose che possono fare qua, quindi amen, ben venga. Senti, la trasmissione si chiama I protagonisti, con la tua verba interpretativa, un saluto a chi ci sta guardando in camera. Io in realtà non sono molto protagonista, nel senso che... Aspetta, poi devi spiegare un fuori programma, che è sto coso che c'hai? Ah, il mio compleanno, non sono protagonista, ho detto il mio compleanno con la cannella, è meraviglioso, quindi un saluto ai protagonisti, che protagonisti non soltanto a teatro, al cinema, ma soprattutto nella vita. E tu l'hai manifestato nella tua interezza, sia nella vita relazionale, interpersonale, soprattutto che artistica, tant'è che io ti sublimo da sempre. Il fatto che mi sublima mi ha fatto... mi è venuto un brivido. Mo ce ne dobbiamo andare, se no chissà che succeda. Ciao cara. Ciao.